Ci sono segreti che non esistono, cose nascoste in ogni canale YouTube E anche io non sono da meno, esiste un video che da anni e anni è rimasto nascosto nella libreria più segreta dei video da Ionich Scusate il filtro della nebbia, la dissipiamo, però ci voleva questa introduzione particolare Questo è un video che per un motivo o per l'altro non ho mai pubblicato, ma ci ho messo tantissimo a registrarlo Poi mi sono autoconvinto che fosse un video sbagliato, che non dovesse mai essere visto Che non dovesse mai vedere la luce del sole, perché effettivamente non era un bellissimo video Nel senso che distruggevo una PlayStation 4, sì era non funzionante, però magari il messaggio di distruggere un oggetto poteva sembrare strano La distruggevo però in un modo fighissimo, tirandoci le frecce e poi ho pensato È vero, potrebbe essere un errore, però perché cancellare questo errore? Questo video è stato fatto da me di anni fa con l'intento di mostrarlo a tutti voi Quindi per fare onore a me stesso e anche a voi che meritate di vedere questo video Anche se è stato un errore, perché nascondere gli errori in fondo non è nel mio stile Il canale si chiama When Gamers Fail, quando i giocatori falliscono E questo forse è un fallimento oppure no, sarete voi a deciderlo In ogni caso ho deciso di farvelo vedere questo video Ovviamente ragazzi sarà strano, perché avevo 4-5 anni di meno Anche un pochino di deficienza, forse in più o in meno, non lo so Questo pure me lo dovrete dire voi E penso sia un video che vale la pena di essere visto Quindi senza altre parole vi lascio al video E mi aspetto che mi diciate che cosa ne pensate nei commenti Perché chi lo sa, potrebbe anche ricominciare un filone tipo questo video Dove facciamo prove pazze qui su Lion Lab Sta facendo fumo! Che cosa è successo? Che cosa è successo? La mia Playstation si è rotta La mia Playstation Non ci posso credere Compagna di mille avventure Si spegne, si surriscalda e si spegne Ma una Playstation che mi è stata vicina per così tanto tempo Merita una fine dignitosa Non deve spegnersi sotto il caldo della realtà virtuale Non posso permetterlo che si spegne così Dobbiamo porre fine alla sua vita in un modo epico E allora ragazzi ho preparato qualcosa di fantastico E infatti ho deciso che oggi noi faremo esplodere Distruggeremo questa Playstation 4 Veramente non vi aspettate Quello che state per vedere sarà qualcosa di devastante Perché la mia Playstation merita soltanto il meglio Anche nella tomba Non riprovate a fare quello che vedete a casa vostra Mai, già mai Perché potrebbe essere pericoloso Quindi gustatevi lo spettacolo Ma non provate mai a ripetere quello che vedrete Questa Playstation verrà trafitta in slow motion Con il mio arco Un arco da caccia da 65 libre Con delle frecce da caccia E la faranno letteralmente Almeno questo è quello che io spero Perché se deve finire, deve finire davvero E si ragazzi per quelli di voi che si stanno domandando Ma che davvero è diventato scemo Vuole far esplodere la Playstation Si ho intenzione di farlo davvero E lo faremo anche in slow motion Al rallenti Così potremo goderci ogni istante Dell'esplosione di questa Playstation A 5000 fotogrammi al secondo Siete pronti per l'epicità di questo video E per la possibilità che ce ne siano altri Voglio che superiate i 50.000 pollici in su Per forza per un video del genere Dovete assolutamente spolliciare tutti E suggeritemi qua sotto nei commenti Che oggetto volete Che sia il prossimo In questa sequenza di video Dove Lion distrugge le cose Che tra l'altro è una delle cose Che mi vengono meglio da quando sono bambino Abbiamo tutto pronto L'arco è nel mio pugno È un arco molto potente Veramente potente Io non sono un bravo arciere ragazzi Ma dovrei essere in grado di colpire Il mio bersaglio Che sarà situato da quella parte di là Ed io oggi per voi sarò il vostro Robin Hood Con le mie frecce accuminate Spero di far esplodere qualche ingranaggio fuori Dalla mia amata Playstation Ok ragazzi Questo è il nostro set della distruzione Qua c'è un morsetto potente Con un palo potente Ho preparato tutto io da solo Sono stato un tuttofare della madocca E adesso posizioniamo la Playstation In questa posizione No anzi Deve essere messa proprio come si sta Quando ci si gioca Proprio in piedi Con la Playstation pronta Lei dirà Sta per arrivare forse un nuovo gioco Un nuovo gameplay No piccola È arrivato il tuo momento Perché ormai non ce la vai più E quindi è giusto Che tu muoia In un modo epico Ok Stringiamo bene il morsetto intorno In modo che non possa Divincolarsi Non possa scappare Ok Ci siamo Credo che ci siamo È fissa Siamo pronti Ma siamo sicuri Di voler fare questa cosa Ragazzi siamo sicuri Perché ogni secondo che passa Mi vengono in mente Dei bei ricordi Che ho passato Con questa Playstation Ed io non sono sicuro Di volerla far esplodere Ma D'altra parte Si è arrivato il suo momento Forse è la cosa migliore Forse anche lei lo vorrebbe Le sono sempre piaciute Le esplosioni Ok Ragazzi Ho tre frecce a disposizione Credo che ne basterà Anche soltanto una Sono abbastanza convinto Mi tremano le mani Anna Non so se ce la posso fare A distruggere la mia Playstation Ma sono convinto È arrivato il momento Di darti Adesso Ho mai più Ragazzi avete lasciato Un pollice su Mi raccomando Conto su di voi In queste mani Sta per concretizzarsi La distruzione del secolo Niente mai Nessun uomo mai Ha avuto il coraggio Di distruggere La propria Compagna di mille avventure La propria Playstation In un modo così Vado Siamo pronti Dovendo per andare Ok Ragazzi Auguratemi Buona fortuna Sono pronto Anna Sei pronta Ragazzi 3 2 1 La Playstation Ha preso la freccia Giusto nel cuore Giusto nel cuore Andiamo a vedere Che cosa è successo La freccia È dritta nel cuore Forse funziona ancora Eh Potrebbe Sta venendo un odore strano Da dentro La freccia è incastrata È completamente incastrata Dentro Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Vedete ragazzi La freccia è conficcata La testa della freccia È conficcata proprio Nel cuore Della Playstation Oh non credo Che funzionerà più Ma gliene voglio Tirare un'altra Perché non sono Abbastanza soddisfatto No Dobbiamo colpirla bene Dobbiamo assicurarci Che nessuno Possa rivedere la vita In questa Playstation Non vorrei mai Che qualcuno potesse Salvaggiarne il cuore E utilizzarla Per i suoi sporchi Comodi Questa Playstation Deve morire con me Con il primo colpo Abbiamo preso Il cuore della Playstation Ma adesso è arrivato Il momento Di farle saltare Le cervella Come a un vero E proprio zombie Gli stessi zombie Che le piacevano tanto Ok Pronta 3 2 1 Ok ragazzi Ultima freccia Della mia fareta Se non esplode adesso Beh non so cosa altro fare La Playstation Si è rivelata più resistente Del previsto Vediamo un po' Cerco di colpirla Nel punto vitale Di ero Questa è un po' Il prende Si è rivelata più Ragazzi sta facendo fumo? Sì Sta facendo fumo Oh cazzo Non ti avvicinare Anna Non ti avvicinare mi sa che abbiamo colpito qualcosa Non sta esplodendo ma non credo che possa esplodere Una playstation Ragazzi spero che voi possiate vederlo sta facendo decisamente Ha fatto un po' di fumo Sta facendo ancora Vado a vedere mi porto in avant scoperta Mi sa che abbiamo colpito qualcosa Sì è uscito decisamente del fumo Direi che non potevamo aspettarsi niente di meglio Un altro po' prendeva fuoco anche Non è esplosa ma l'abbiamo sfondata Con tre frecce una da una parte Due dall'altra e l'abbiamo anche fatta Quasi prendere fuoco Anna direi ragazzi abbiamo Completato la missione con grandissimo Successo non sembra che abbia preso fuoco E' stato solo una piccola vampata di fumo Forse l'urto della freccia ha colpito Qualche parte che poteva diventare Incandescente non lo so la plastica forse Però la distruzione E' andata a buon fine Mi ritengo pienamente soddisfatto Non poteva andare meglio di così Abbiamo trafitto la playstation Con tre frecce e immagino che la ripresa in slow motion Sia qualcosa di spettacolare Ragazzi ancora non l'ho vista nemmeno io Ma aspetto con il cuore in attesa Di vedere quei momenti Quella freccia che in slow motion Trafigge la playstation E ne fa esplodere la scocca esterna Ah che spettacolo Che spettacolo di distruzione Beh sapete che vi dico ragazzi Questa playstation resterà tra i miei cimieli Tra i miei ricordi Con queste frecce conficcate dentro Che di sicuro non hanno intenzione Di volerla abbandonare Sono entrate veramente in profondità Dentro la povera playstation Ma ora è arrivato il momento Di darle una tomba Una degna sepoltura In camera mia In uno dei cassetti Lei resterà immolata Mi raccomando superiamo i 50.000 Se volete vedere la distruzione Di un altro oggetto Consigliatemelo voi nei commenti Non ripetete quello che avete visto a casa Mi raccomando Perché è pericoloso Ed io vi auguro Una buona giornata Se non siete iscritti Iscrivetevi Lion nella playstation Distrutta Out Beh Che dire That's all folks Cosa Che dire